Dice che è ora di andare Ci muoveremo in fretta, ok? Quindi tu resti attaccato a me come colla Come colla? Come colla Capito Bene, bene Ok Pronti? Sì Ok Bene, stiamo vicini, ok? Ci hai già provato? Rassicurante Rilassa, ti vecchio Spero che tu conosca la strada Di qui Di qui Ok Ok Cerchiamo di farli fuori senza fare troppo rumore Ehi, ti seguo Bene Ehi, come va? Cerco di restare al caldo Come va là fuori? Abbiamo eliminato qualche infetto Ma nessun segno dei turisti Qualcosa per nasconderti Troviamo prima che scappi Dove cazzo sei? Dove cazzo sei? Pezzo di merda Oh god Oh god E' un cerino Non è un cerino Ah Si Non è un cerino E' un cerino E' quello che sa E' un cerino E' un cerino Spero che si sa E' un cerino Sì. 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 Harry, dammi una mano. Ok. Pronto. No! Tira! Aspetta, aspetta. Ehi! Sono qua giù! Merda. Oh no. Centro. Davanti, andiamo. Tieni gli occhi aperti, non è ancora finita. Ok, controlla! A posto! Sam, andiamo! Su, ragazzo, vai! Ci sei? Coraggio! Merda! Forza, forza! Forza, forza! L'hanno bloccato! Ellie! Ok, tiriamolo su! Abbattiamolo! Mi dispiace. Andiamo! Cosa? No! Che stronzate! Ehi! Ora! Affanculo, Harry! Merda! Restiamo insieme! Forza! Oh, cazzo! Oh, cazzo! Come cazzo usciamo da qui? Oh, cazzo! Sei... Porca merda! Vai! Cazzo! Cazzo, non uccidermi, ti prego! Ti prego, lasciami andare! No, no, ti prego! Perlustra l'area. Niente male, vero? Bel colpo. Perlustra l'area. Perlustra l'area. Passiamoci sotto. Perlustra l'area. Perlustra l'area. Cazzo! Quanti colpi hai ancora? Ci occideranno! Abbiamo forse altra scelta? Saltiamo! No, no, è troppo alto, non sai nuotare. Ti aiuta a salire e corri di là. Marta! Marta! Mi sarai a galla! Ellie! Non abbiamo tempo! Ellie! Oh, diavolo! Oh! John! 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 No, no, no! Harry! È sveglio! Ehi, tu. Siamo vivi. Ok. Visto? Che ti ho detto, eh? Sta bene. Va tutto bene. Sai, è Sam che vi ha visto. Avete tirato su un bel po' d'acqua quando... Ma che cazzo fai? Ehi, no! Harry! Tutto ok? Sta indietro tu! Ehi, è incazzato, ma non farà niente. E sei proprio sicuro? Basta! Joel! Ci ha lasciati là fuori a morire. No, era probabile ce la faceste. Ed è stato così. Ma fossi tornato per voi, avrei messo in pericolo lui. Sta indietro! Se è stato il contrario, sareste tornati per noi. Ti ho salvato. Ha salvato anche me. Saremmo annegati. E per quanto valga, sono felice che vi abbia visti. La torre radio è dall'altra parte della scogliera. Ok? Il posto è pieno di provviste. Sarete felici di non avermi ucciso. Ehi, cerchiamo in questa zona. Vediamo cosa troviamo. Beh, è stato intenso. Stai bene? Sì. Troviamo quella torre radio. Ehi, magari in quella barca laggiù c'è qualcosa. Tieni gli occhi aperti. Ci avevo già pensato. Eh, l'abbia cosa. Beh, quando è in acqua la questione è diversa. Ehm, c'è qualcosa per volta. Sì. 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 Wow, sembra come un'astronave. Cioè, è come immagine un rumore di un'astronave, vero? Non si può andare di qua. Per un secondo ho pensato gli avresti sparato. Già, c'è mancato poco. Sono a posto. Cioè, è una buona cosa avere un'imparagge. Lo penso anch'io. Ma a quei tempi avevano tutti una barca? Sì, io avevo uno yacht di venti metri. Davvero? No. Sarcasmo. Facciamo progressi. Sì, io avevo una barca. Sì, io avevo una barca. Ehi, Ellie! Mi sa che abbiamo trovato qualcosa. Andiamo a vedere cos'è. Andiamo a vedere cos'è. Grazie. 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 Dammi una mano con questa. Ok, insieme. Forza. Ok, dai ragazzi, via. Ok, grazie. Dai, entrate. Ehi, fuori le torce. Sam, resta vicino. Qualcuno sta imparando, finalmente. Ah, che grandioso. Joel, dovremmo coltare di qua. Ok, guardiamo da questa palla. Non mi piace questo posto. Neanche a me. Non abbiamo un'interazione. Ehi, di qua. Andiamo da questa palla. No, non mi piace. No, non mi piace. Ehi, di qua. Ehi, di qua. Ehi, di qua. Grazie a tutti.